sono felicissima e onoratissima di presentare questa edizione diversa speciale come tutto quest'anno del premio 8 milioni da casa mia da interno 4 che spero sarà presto pieno di persone di grandi artisti come quelli che hanno partecipato a questo premio e sono sicura che faremo prestissimo una bellissima festa e sono onoratissima di far parte di questa nuova edizione e tra l'altro di insomma di dividere l'onore di questo palco con i protagonisti di questo evento prima di tutto il mio adorato bruno mancini che presidente dell'associazione culturale da ischia l'arte dila non che proprio ideatore del premio internazionale 8 milioni ho conosciuto bruno lo dico sempre lo ripeto un primo giorno di primavera quindi insomma la primavera dell'anno scorso mi ha fatto conoscere bruno e mi ha potuto conoscere tutti questi artisti così interessanti come una ventata di vento primaverile e oltre a bruno mancini io divido questo palco ideale anche con maria piaciaghi editrice del sexante del magazine eudona con gaetano di meglio il direttore della testata giornalistica al dispari e dalila bush alfa presidente dell'associazione algerina ada io spero di avere presto l'onore di conoscerli tutti personalmente di vederli dal vivo di abbracciarli di baciarli